La Marcord della settimana è con un personaggio che ha dato e continua a dare tantissimo alla città di Brindisi. Attualmente è il presidente del Brindisi Calcio, naturalmente stiamo parlando di Ubaldo Novembre, ma con lui andremo a ripercorrere il suo Marcord personale e appunto chiederemo da subito quando ha iniziato. Con lui chiuderemo il ciclo a Marcord di questa annata. Quando hai iniziato a giocare a pala e canestro? Ho giocato anche a pala e canestro a certi livelli, ho fatto le finali allievi nazionali a Livorno con il coach famoso Elio Pentassuglia, però in quei tempi io facevo sia basket che calcio, ero un ragazzo cresciuto come tanti altri ragazzi d'oggi all'oratorio, ai Salesiani, con me c'era Tonino La Palma, eravamo amici per la pelle, compagni di giochi e di avventure. L'avventura nel Brindisi è iniziata nel momento in cui il nostro grande patrono, a cui poi è stato intestato lo stadio, Franco Farnuzzi, prese la squadra e Brindisi Calcio chiamò Vinicio, il famoso Luis Vinicio, Luis Vinicius de Menezes, che poi si è rivelato un grande, un grande alleatore, dopo Brindisi è allenato Napoli, Inter a grandi livelli. Con l'avvento di Farnuzzi e di Vinicio come allenatore venne a vedere una partita di settore giovanile e intravene in me e Tonino La Palma i ragazzi che potevamo stare nella rosa del Brindisi Calcio. Non hanno sbagliato in pratica, i risultati sono quelli. Come già detto Vinicio è stato un grande allenatore per cui riusciva a vedere chi poteva avere le potenzialità per diventare calciatore. Niente, ha visto bene, ci ha messo in prima squadra, ci fece partire il ritiro con loro e in quell'anno sia io che Tonino La Palma debuttammo in C. Era l'anno della C dove non c'era C1, C2, era unica C e vincemmo il campionato. Io quell'anno feci tre partite, Tonino forse ne fece una decina. Torniamo un attimo indietro. In pratica il ruolo di portiere era innato in lei oppure faceva qualche altro ruolo a livello calcistico? Io all'inizio ero un grande centravanti, ero bravo con i piedi, però allora al contrario io di oggi, dove il portiere deve essere bravo con i piedi e bravo con le mani, allora dovevi essere solo il portiere e basta, con i piedi si giocava pochissimo. Infatti ricordo che avanti a me il mio maestro è stato Di Vincenzo, il famoso Di Vincenzo veniva dalla Sampdoria e io ho rubato tutti i segreti, diciamo, da lui. E quindi... L'allenatore a cui è legato maggiormente? Ora spiego la mia storia così poi capirai chi è stato l'allenatore e poi mi ha fatto giocare a certi livelli. Niente, Vinicio ci ha dato il larme a Tonino La Palma nel Brindisi, poi quando Vinicio andò via a Napoli si portò con lui Tonino La Palma e a Brindisi venne Di Marzio, Gianni Di Marzio, anche lui un grande allenatore. E facemmo un grosso campionato di B, credo, arrivamo qui in T-6, non ricordo, e allora era una buona classifica quella. Niente, Di Marzio l'anno dopo andò a Catanzaro in B e mi chiamò con lui, come Vinicio aveva chiamato La Palma a Napoli, Di Marzio mi portò a Catanzaro. In Serie A? Ah no, prima in Serie B. Sì, era Serie B e vinceremo il campionato e l'anno dopo giocammo in Serie A. Quindi ha avuto la possibilità di vivere l'atmosfera della Serie A che... La Serie A sono altri sapori, anche se bisogna rispettare la C, la B, però la Serie A è Serie A, stare lì in campo, stare a contatto con i Zoff, con i Gentile, con i Facchetti, beh, è tutta un'altra cosa. Chissà se vivremo mai qui a Brindisi comunque. Io penso che dovrebbe nascere un altro Fanuzzi.